Ci sono momenti in cui bisogna guardarsi dentro e capire dove si vuole arrivare, che cosa si desidera fare da grandi, se basta accontentarsi o provare a spiccare il volo. Alla velina oggi alle 15 al parteneo Lombardi tocca questo compito, rendersi conto se il girone di ritorno che ha di fronte sarà l'insegna di una lotta per la salvezza, oppure comprendere se può dare un segnale in chiave playoff contro la Cremonese, solo tre sconfitte finora su formazione solida e molto equilibrata, l'occasione è cessa. Sta solo a D'Angelo e compagni coglierla o sciuparla. Intanto sono diverse le assenze, da Molina squalificato ad Ardemagni con la pubalgia fino a Rezzato che è convocato ma che non ha ancora una buona condizione per arrivare a Gigi Castaldo che risente di qualche problemino muscolare. La buona notizia riguarda Di Tacchio che si è allenato regolarmente e sta bene tra i pochi ad essere salvato dall'allenatore di Montemarano durante la conferenza stampa di ieri. In difesa si cambia con Marchizza che torna a sinistra al posto di un falasco troppo distratto e offensivo e Laverone dall'altra parte. In questo caso i centrali saranno Ngao e Migliorini con Cresic escluso. A centrocampo De Lisio cambia partner e va al fianco di Di Tacchio con D'Angelo nell'insolito ruolo ma lo ha già svolto di esterno destro. Non cambia niente per Bidawi e in attacco ci saranno Castaldo e Asenzio. Ma ci potrebbe anche essere la sorpresa Davide Gavazzi dal primo minuto se appunto Castaldo dovesse alzare bandiera bianca. Così come l'alternativa a Ngao al centro della difesa resta Cresic e questo significherebbe vedere Laverone esterno di centrocampo ed uno tra De Lisio e D'Angelo in panchina. La prevendita non ha restituito segnali, non si preannuncia di certo il pubblico delle grandi occasioni ma sicuramente l'entusiasmo può crescere all'avvenendo il compito di riscaldare i cuori e gli animi in un sabato di gennaio che si preannuncia freddo ma pieno di sole.